Lunedì scorso, presso locali del Consorzio Asi della zona industriale di Agrigento, si è riunita l'Assemblea dei Soggi del Lato Idrico Provinciale. Alla riunione guidata dal Presidente della Provincia Regionale di Agrigento, Eugenio Dorsi, erano presenti anche i 14 sindaci degli attrettanti comuni consorziati con lato idrico, tra questi anche il Sindaco di Favara, Domenico Russello. Presenti inoltre alla riunione anche gli ingegneri, Bernardo Barone, Giuseppe Milano, Gaetano Cucciardo e Piero Amel, oltre ai dottori Salvatore Alesci e Costantino Verbari. L'Assemblea si è riunita per discutere su due punti all'ordine del giorno, ovvero il bilancio di previsione per l'anno 2010 e il conto consuntivo per l'anno 2009. Una volta aperte le discussioni sul primo punto introdotto in aula dal Presidente Dorsi, il dottor Alesci, leggendo la proposta di delibera, fa notare ai Soggi presenti che, in merito alla quota del canone di concessione del servizio idrico integrato per l'anno 2009, della quale somma risulta il debitore e il gestore girgenti Acqua e S.p.A., lato ha già provveduto a mettere in atto la procedura di diffida per il recupero del credito. Il bilancio poi è stato messo ai voti e approvato da 12 sindaci. Dalle operazioni di voto si sono astenuti i primi cittadini dei comuni di Aragona, Cammarata e Grotte. Messo in archivio il bilancio di previsione 2010, i Soggi del lato sono passati poi alla trattazione del punto riguardante il conto consuntivo per l'anno 2009. Sempre il dottor Alesci ha ricordato agli amministratori presenti all'Assemblea che l'avanzo di amministrazione accumulato fino al 31 dicembre 2009 sarà ripartito ai comuni consorziati in maniera proporzionale alle rispettive quote di partecipazione che i singoli detengono in Consiglio di Amministrazione. Conclusi le precisazioni di rito, il Presidente dell'Assemblea Eugenio Dorsi ha ammesso ai voti il punto che è stato successivamente approvato con lo stesso esito dell'approvazione del bilancio di previsione 2010, ovvero con i voti favorevoli di 12 sindaci e con l'astenzione da parte dei primi cittadini dei comuni di Aragona, Cammarata e Grotte. Sciolta la seduta per esaurimento dei punti all'ordine del giorno, adesso sarà il Presidente Dorsi a stabilire una nuova data di convocazione per l'Assemblea dei Soggi. Grazie. Grazie.